Ciao ragazzi, ben trovati di nuovo sul mio canale E si ragazzi, siamo tornati con il secondo episodio di Jurassic Park World Evolution 2 Ragazzi, siamo tornati con questo bellissimo episodio, questo episodio serione che abbiamo iniziato già dalla scorsa settimana Ragazzi, e molti di voi gli è piaciuto, quindi sono contento ragazzi che vi stanno piacendo Non solo questa serie, ma anche altre serie che sto portando sul mio canale E grazie veramente per il supportazzo che mi state dando in questi video e soprattutto come sempre da tanto tempo Ragazzi, torniamo dove ci avevamo lasciati, che avevamo iniziato questa campagna Qui, che avevamo iniziato un po' a salvare i dinosauri dispersi un po' Avevamo già fatto qualche ricinto, avevamo cominciato a costruire già qualcosina del nostro parco Cioè, nostro parco, ancora non abbiamo fatto il nostro parco, però stiamo andando a cominciare Quindi, banda le cianci, quindi ne andiamo a prendere... No, che è iniziato una partita, siamo calmi Carica partita, un attimo, che sta succedendo? Ok, vai, carica, carichiamo l'ultimo salvataggio Qua dobbiamo prendere bene, non facciamo cazzatelle, se non buttiamo tutto quello che abbiamo fatto Siamo in Arizona, dovevamo ancora finire di completare alcuni obiettivi della campagna Quindi, vediamo un po' cosa ci riserva questo episodio, ragazzi Intanto voglio dirvi di spippolare anche gli altri episodi e altri video Ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina Condividete questo video, bel pollicione in su e sotto iscrivetevi ragazzi Tutti i link sono gratuiti, quindi non vi costa nulla fare qui I recinti dovranno essere pronti per accogliere i dinosauri prima del ritorno delle squadre di cattura Ah, ok, sì, ci avevamo lasciati qua ragazzi Praticamente dovevamo costruire il recinto che avevamo mandato Intanto stoppiamo il tempo, stoppiamo il tempo perché se no il tempo scorre Poi arrivano gli elicotteri e dove cazzo ci rilasciano sti cosi Perché noi avevamo mandato a catturare questi qua praticamente Quattro Stegosaurus a Las Vegas Quindi stanno venendo qui Quindi dobbiamo costruire un recinto per questi altri quattro esemplari erbivori ragazzi Quindi andiamo a fare un altro recinto per gli erbivori, ciò che avevamo fatto per i tricioratopi Che abbiamo qui Vedete che abbiamo qui, questo l'avevamo fatto già nello scorso episodio Più avevamo catturato un Byronix che sta proprio qui Quindi io direi di farlo qua, visto che abbiamo lo spazio per poterlo fare Quindi andiamo a costruire il nostro recinto Io direi di mettere, oddio, non troppo attaccato alla città Cioè, no, alla città, alla strada Anche lasciamo il passaggio per altre cose Ovviamente dobbiamo mettere anche un'altra fonte di energia Perché mi sa che non ce la fa con tutti questi recinti elettrici Allora, io direi che potrebbe andare bene così Questi sono anche dei giganti, dei colossi sono, capito? Quindi diciamo che potrebbe andare così Eh, vabbè Andiamo un po', potrebbe andare così, eh Sembra un po' piccola Effettivamente è un po' piccolina, ragazzi Mi sa che la andiamo ad allargare un pochettino Perché? Perché sì, perché questi sono giganti Infatti non ci ho pensato Un attimo, eh Questi sono giganti Sono in ceso Non ci avrebbe uno, due Ne sono un bel po' di... Quindi andiamo ad allargare un po' verso Così Facciamola un po' più, un po' più larga La nostra... Tanto non fa niente Ci l'andiamo ad allargare un po', dai Ok Dai, almeno abbiamo allargato un pochettino Un po', diciamo come era prima Poi ci mettiamo una porta La mettiamo proprio qua E vabbè Vediamo un po' una cosa Allora, lo stegga osa Lo stegga osa Vediamo un po', vediamo cosa c'ha... Allora, no Questo abbiamo preso l'altra volta Allora, dinosauri Vediamo un po' No, no, no No, modifiche genetiche, no Allora, lo stegga osauro Dove ce l'ha messo? Dove sta? Dove, dove, dove sta? Eccolo qua Dobbiamo vedere un po' l'habitat Per costruire il suo habitat naturale Nel recinto che abbiamo fatto nuovo, ragazzi Allora, piante predestoriche Allora, dieta, quindi... Quindi c'ha una dieta di piante basse Quindi ama le piante basse Altezza 5 metri, ragazzi Peso 3 tonnellate e mezzo Una bestia E di lunghezza Sono 10 metri di lunghezza, ragazzi Una bestia, una bestia Uno stegga osaurus Allora Va bene Era giusto per vedere cosa Diciamo un po' anche per Dargli un abito Va bene Allora, facciamo una cosa Ma andiamo Prendiamo play E... Così facciamo Costruire però Ci serve anche un'altra centrale Allora, come si metteva? Ok Io la voglio mettere proprio qua Almeno un'altra centrale Almeno abbiamo più forza Di elettricità anche nei recinti Ok, lo stiamo costruendo E... Attendi il complessivo della spedizione In cattura del vivo Quindi abbiamo fatto anche un altro recinto, ragazzi Quindi siamo andati a costruire tanti recinti In questa campagna Quindi abbiamo salvato altre 4 esemplari Leggendari E beh, vivo Ritrasmissione in arrivo Cattura di dinosauri, vivo Ok, catturati Specifici Cattura di 4 Vasi 0 Tempo di cattura 54 secondi, proprio Trasporta i dinosauri Vabbè, mettimeli qua Uno qua Uno qua Uno qua E uno qua Ovviamente sono 4 Quindi mo' stiamo portando Però nel frattempo che ci portano Questo bellissimo esemplare Guardate ma sono Oddio, però ragazzi Io credevo che erano un po' più grandi Invece abbiamo fatto un recinto estremamente grande Io credo che erano più grandi Però, diciamo Abbiamo fatto abbastanza grandi È vero che mo' ci puoi mettere gli alberi Dobbiamo metterci l'acqua Tutta una cosa Allora, nel frattempo io direi Di metterci anche Una cosa che va a controllare La cosa Quindi Allora, diciamo ai guardiani Dove stanno i guardiani Qua Io la macchina mi sa che l'avevo vista qua Dove stanno Dove stanno i guardiani Mi sono persi Qua Aggiungi attività E mettiamo qua Ok Allora Trasporto esemplare Sengosauro Ok Nuovi Ok Vabbè Aspettiamo il completamento Andiamo Guardiamo Il bellissimo esemplare Ragazzi Bellissimo Veramente Questa abbiamo Alte qua esemplare Stupendi Stupendi Vabbè Ma dobbiamo assicurarci Mi sta osservandoci Scusa ma non ti seguo Owen Beh Intanto che i dinosauri Ci osservano costantemente Quindi Noi non dovremmo osservare loro Sì Dovremmo Allora Allora Facciamo una cosa Quando avremo sistemato i dinosauri Nelle loro recensioni Ci serviranno anche gallerie panoramiche È quel che sto dicendo Ma detto da te Ok Costruiamo pure questo Che ci serve Ok Allora Adesso dobbiamo Prendere quest'auto qui E fare i controlli Ragazzi E vedere Il comfort Allora Controlliamo pure questo Ma Ma che bestia ragazzi Ok Quindi abbiamo controllato Vediamo un po' cosa Cosa dobbiamo metterli Allora Acqua Frutta basse E fibre basse Ok Allora Quindi andiamo a costruire Allora Allora Andiamoci a fare l'habitat A questi bellissimi Meravigliosi Esemplari Allora Rifacciamo l'acqua Ovviamente qua Facciamo tutta una cosa D'acqua Rifacciamo Quindi fibre basse Fibre basse Mettiamo questo Li mettiamo Un bella Bella porzione E poi cosa volevano pure E Ah È frutta basse Però fibre basse Oh Sta caricando Fibre basse Perché scusa Non mi Non me lo Calcio Fibre basse Allora Frutta Fibre sono queste Proviamo a metterli questo Poi mettiamo un po' di tutto Ragazzi Eh Vediamo un po' Li mettiamo un po' di tutto e tutto Ok E li mettiamo un po' di frutta Frutta Mettiamo un po' di questa Vediamo un po' Ok Vediamo un po' Comfort All'87% Cosa manca? Frutta Bassa Sta frutta Bassa Manca Frutta Bassa Mettiamo un po' di un po' Che dobbiamo fare Ok Ok Vediamo un po' Eh no Mo' è sceso il comfort Così manca Frutta Spazio aperto Come spazio aperto? Scusa Mi sta più a peggire Allora Un attimo Quindi manca Frutta Bassa Frutta Bassa Spazio aperto Spazio aperto Vabbè Vabbè Frutta bassa Vabbè Allora Frutta bassa Facciamo così Comforto All'86% Facciamo una cosa Ehm Mettiamoli in altra Pozzetta d'acqua E vediamo un po' Se abbiamo migliorato 85% Spazio aperto Il manca lo spazio aperto Beh Capito Frutta 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 Ehm Diciamo così Vediamo un po' Si va bene Eh no Ma sta discendendo Qua il comfort So spazio aperto Ragazzi Spazio aperto Non capisco Ok Vediamo un po' Eh no Sta scendendo il comfort Però Cosa manca Però spazio aperto Sta diminuendo Sta diminuendo Quindi In questo momento Sta a suo agio Abbiamo 83% Però dobbiamo far arrivare A 90% Quindi Non è facile Perché Come andiamo a togliere una cosa O mettiamo una cosa Quindi I serve lo spazio aperto Quindi Spazio aperto Spazio aperto Però raga Se Li tolgo qualcosa Qua Forse No Fè Fè Calma Calma Li tolgo qualcosa Qua Vediamo un po' Se li riesco a togliere Lini contorno Ehm Bbbbbbbbbbbb Aspetta Diminuiamo il Il raggio Proviamo a fare tipo Una cosa piccolina Qua Facciamo una cosa Tipo Più Più fogli Vediamo un po' Cerchiamo di fare una cosa fatta bene Queste fibre alte, fibre basse, frutta alta E questo gli da molte più cose Ok vediamo un po' Eh ma così sta scendendo però Ma che mi sappia per culo Mi serve più spazio aperto Allora facciamo una cosa scusami Eh a sto punto Mani estreme e semi rimedi scusatemi Eh facciamo una cosa fatta Così Gli diamo più spazio e vediamo un po' Che dobbiamo fare ragazzi qua Cosa Facciamo che costruisce E poi li togliamo Ok fallo costruire Ok Ok Vediamo un po' se così l'abbiamo risolto Eh che fa' Spazio aperto Ancora spazio aperto Scusa Più aperto di questo Che cazzo Vabbè Comunque Eh Allora facciamo una cosa Frutta bassa E noi ci mettiamo molta frutta bassa E vediamo se riusciamo a Ok 86% Sta crescendo Quindi andiamo a mettere frutta bassa Frutta bassa Frutta bassa E dovrebbe andare al Al 100% Al Ma come 84% Ma che mi si pia Ma scusami Eh perché Lo spazio è aperto Mannaggia sto spazio è aperto 95% Grandi Grandi ragazzi Ce l'abbiamo fatta 95% Abbiamo liberato un po' di spazio Quindi mo' ci hanno tutto Ragazzi ci hanno Il comfort al 95% Sono molto di più 45% in più ragazzi Quindi Grandi così Grandi così Grandi 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 così Allora abbiamo costruito anche Una galleria di panorama Perché Per lo staff Ricercatori Archeologi Lo staff deve comunque monitorare L'andamento dei Dei dinosauri Comunque ragazzi Sono bellissimi Un altro I 4 esemplari Bellissimi ragazzi Io sono contento Che vi stanno piacendo Anche che vi stanno piacendo Questa serie Del Qui Del nuovo Jurassic Park Sono contentissimo Veramente Allora Dai Vediamo un po' Abbiamo fatto anche questo qua Vediamo cosa ci fa fare Eh Ok Abbiamo completato Allerta a meteo ricevuta Apri i rifugi di emergenza Oh cazzo Apri i rifugi Apri i rifugi Abbiamo un problema serio Mi sto impegnando Oh Arriva la tempesta Ma solo uno ce n'abbiamo Non tu Solo uno ce n'abbiamo Raga di coso Sta per scatenarsi Oh guardaci che corre Tutti dentro Tutti dentro Alletta mia fneoneo Tutti dentro Tutti dentro Tutti dentro Tutti dentro Tutti dentro Vedrai Che troveremo una soluzione Oh guardate dentro Ma che sta arrivando Mezza tempesta Che è Che succederà Nemmeno adesso Faremo tutto il possibile Del resto Cos'è un po' di sabbia Abbiamo visto Fa il pieno Facciamo il pieno Carburante ragazzi Oh raga Arrivata la tempesta Oh my god Tanto la gente È andata tutta Dentro i rifugi Oh Vada dentro i rifugi Forza Madonna Sono una tempestora La prima tempesta Tanto i rifugi Sono aperti Gli allarmi Stanno suonando Controlliamo se Se le gabbie Tengono Se non Come recensione rotta Oh porca puttana Il bar Il minaccia Dino Oh Cristina D'avena Ammetto che La situazione Eh questo ragazzi Il Byronix È quello più Quello più Che mi spaventava di più Oh Controlliamo se non c'è nessuno Chi è che proteggerà I dinosauri Eh io Guarda lo sapevo Oh cazzo Questi non stanno qua Oh oh Io Scusa È solo che sarebbe una tragedia Se perdessimo di nuovo Questi animali Intendo Una tragedia finanziaria Per non parlare Dell'imbarazzo Per i vertici Del DFV Occhio 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 Eh raga Non li posso manco sparare Come evitiamo Che succeda Oh cazzo Occhio Ma c'è Oh cattroia Via Scappate Scappate Raga mettetevi qua dentro Chiudetevi qua dentro Oh no Se Invece si è fermato Eh ma dobbiamo aspettare Che finisce sta Scusa Raga prendiamo la macchina Controlliamo il Ok la tempesta Sembra che Che abbia Assicuro che tutti gli usati Sono rinchiusi In sicurezza Allora raga Dobbiamo riparare A sta recensione Ok ripariamo Ok Mo raga Dobbiamo prendere L'elicottero No quell'altro Vai Dobbiamo Dobbiamo Richiudere L'elicottero Ok Perfetto L'abbiamo fatta Addormentare Ok Prendiamo Questo E tu me lo riporti Qua dentro Ok ragazzi Diciamo che Dopo la tempesta Si è stato un po' sotto controllo Per fortuna Dobbiamo controllare anche la riserva di carburante Dei generatori usiliati L'abbiamo fatto il pieno ragazzi Questa è una cosa molto importante Perché dà tutta l'elettricità Anche ai recinti Quindi Allora Possiamo chiudere i rifugi Chiudi tutti i rifugi Ok Quindi possiamo far uscire la gente Che l'allerta è meteo Anche minaccia di dinosauri È passata Quindi tutto lo staff Può tornare Alle mansioni Ragazzi Abbiamo diciamo Abbiamo Comunque potete riparare Possiamo riparare anche Le recinzioni Con i nostri Guardiani Fanno un po' tutto fare Tipo Tipo Bob L'aggiusta tutto Insomma Ok portiamo i dinosauri Tutti in sicurezza Controlliamo anche gli altri dinosauri Raga nel frattempo che Se stanno bene Ma dove stanno gli altri questi Come stanno E questi ragazzi Sembra che stanno Alla grandissima proprio Controlliamo anche I tricioratobi Come stanno Ma stanno in perfetta salute Anche loro Solo il Byronix Un po' Questo è l'unico esemplare Di dinosauri Che nelle tempeste Si agita E diventa molto pericoloso Cioè ragazzi Ha scontato una recensione Elettrificata Per farvi capire Però di salute E comfort Ha bisogno di pesce Scusa Facciamo una cosa Ha bisogno di pesce Scusami un attimo Ne mettiamo un altro uno Eh però Aspetta No Vabbè il pesce ci sta Dai vai Va a mangiare Va a mangiare Ok allora Abbiamo messo tutti Gli animali In sicurezza Quindi è tornata La tranquillità Tutto sotto controllo Le grandi Grandi Non so anche il nostro Lavoro dei guardiani Che vanno a riparare Mettono Tranquillità Ok Trasmissione in arrivo Missione compiuta Ragazzi Arizona Abbiamo completata Quindi Vediamo un po' Che dobbiamo fare L'Arizona fu un successo I dinosauri erano al sicuro Finch e i DFV Avevano avuto modo Di tenere a bar Bello pure questo esemplare Bellissimo Ma il futuro Quello era ancora tutto Da decidere Campagna Washington Quindi sarà un'altra cosa Ragazzi Da fare Non lo so Una rete di bracconaggi Dinosauri è stata Recentemente smantellata Dall'autorità Dopo un disastro Il loro campo Quindi qua era un campo Di bracconaggio Troppo Queste cose sono brutte Da Oh my god C'è una neve incredibile Stato di Washington Accampamento di bracconieri Abbandonato È fluida I nostri amici canadesi Quando sono belli pure Questi dinosauri Ci stiamo avvicinando Al confine Dobbiamo impedire Che lo attraversino Siamo della CIA Nello specifico DSP Divisione Specie pericolose Sono la dottoressa 2 Ho molta esperienza Nelle ricerche Paleontologiche In questo campo A Jurassic World E Uga In altri luoghi Che non posso divulgare Vabbè Giustamente Sono tutte top secret Tutte top secret Questo che vedi Il campamento di bracconieri Sono riusciti solo A farsi uccidere Insieme agli altri Hanno Diciamo Sottovalutato Il Il pericolo Dei dinosauri Più pericolosi Allora Somministra Ok Dobbiamo somministrare Ok Dobbiamo somministrare Facciamolo in fretta Ma anche in sicurezza Ok Mi Madonna Sta sfondendo Il cindio Colpito Allora Questo sta addormentando Ok Andiamo Andiamo con l'altro Andiamo l'altro Boom Colpito Boom Colpito Ok L'organizzazione Ha i suoi attori Chiave Costruisci Un esempio Ma ha anche Delle strutture chiave Che devono funzionare In maniera efficace Inizia quindi A costruire Un punto d'arrivo Un centro di controllo E un generatore Ausiliare Per fornire energia Ok Allora Ragazzi Abbiamo addormentato Questi due esemplari Che erano Erano In trappola Dai Dai Bracconieri Che poi Sono stati uccisi Da questi due esemplari Perché hanno sottovalutato Il Il pericolo Di queste creature E Da non stoppiamo il gioco Mettiamo in pausa Che hanno sottovalutato Il problema E noi adesso Da qui dobbiamo Costruire un centro Operativo Come quello Che avevamo In Arizona Quindi dovremmo Cominciare a costruire Noi una cosa da zero Dal nulla Quindi dovremmo Smantellare queste gabbie Che avevano fatto I bracconieri Per poter Per poter fare Un nostro punto Per aiutare I dinosauri E per Anche questi due esemplari Che abbiamo addormentato Perché erano molto agitati Potevano cattoli di problema Vabbè ragazzi Direi che per questo episodio Facciamo un salvataggio Vai Sovrascrive il salvataggio Facciamo un salvataggione Incredibile Torniamo al menu Principale Ragazzi E niente Per questo episodio È tutto Ci possiamo fermare qui Con il secondo episodio Di Jurassic Park World Evolution 2 Ragazzi Nel prossimo episodio Costruiremo noi Tutto da zero Quindi rimanete Sintonizzati ovviamente Per il terzo episodio Di questo Di questo Serie pazzesca Di Jurassic Park Ragazzi Io vi aspetto qui Nei prossimi episodi O anche Nei prossimi titoli Ragazzi Grazie veramente Per il supporto Che mi state dando Ragazzi Tanti titoli interessanti Ve l'ho detto Quindi non mancate Veramente Di seguirmi Ragazzi Spollice in su Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Per non perdervi mai nulla Ragazzi Condividete questo video Con amici Parenti Il più possibile E in descrizione Ragazzi Tutti i link Sono gratuiti Non vi costa nulla Clicca Clicca Anche se volete Acquistare Farming 2022 Che domani esce Ragazzi Sotto in descrizione Potete usare O il mio link Di Instant Gaming O il mio link Di partner Certificato Della Giant Che andate a risparmiare Tantissimo ragazzi Ci tenevo molto a dirvelo Ragazzi Noi ci becchiamo Nei prossimi video In live Qui sul mio canale Ciao a tutti ragazzi